Ciao ragazzi e ragazze, video di oggi, video di compleanno di mia madre. A mia madre oggi sono state regalate una serie di cose, ma il regalo più bello, sicuramente per la sua reazione, l'ha ricevuto da un'azienda che adora, QVC, che le ha mandato a sorpresa un mazzo di fiori bellissimi con un biglietto scritto a mano per farle gli auguri e ringraziarla della fiducia che aveva accordato all'azienda, essendo probabilmente uno dei clienti più longevi d'Italia. Che dire, si è molto stupita, io ho visto la questione da un punto di vista aziendale e mi sono chiesta qual è la fatica di prendere una persona che cerca nel database i dati dei clienti, i compleanni, magari ciò che piace loro e le loro preferenze, in generale che si cura del cliente da un punto di vista anche umano e che prende e scrive un biglietto scritto a mano spedendo dei fiori. Beh, sembra facilissimo, ma la domanda è, quante altre aziende lo fanno? Brava QVC, stop whining!